Eh, c'è troppo nebbia Ma no, ma la nebbia forse è l'ultimo dei problemi, cazzo Oh, oh Paola, prendi subito le cose che ce le fai Oh, un po' di minuti Cipono, cipono, eh Le danno delle ombre Un atterrato Io pure Cazzo, ora vengono qua Ora vengono i mostri Ma la scopa c'è? Boh Mi sento avanti La scopa? No, anche io ho per far voglia una scopa Andate 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 C'è, c'è C'è, c'è Aspetta, da me c'è gente Vengo, vengo Paola, andiamo, andiamoci con la macchina C'è una scopa No Una scoop, neanche una scoop Paola, non ce l'era, stai cercando pure Peppe Peppe è di me, neanche una scoop Venga, Peppe Ti ho colpi pompa Ti ho cinque Io no Colpito, 31 Ucciso, ucciso Ucciso a Faze Kail Kail di merda Ma che tu che aveva con me? Peppe c'è gente Ma che spano? Da dove? Da dove? Ho messo un secondo L'ho visto e là sotto Ha tirato l'altro Un secondo Ma che tu dove? Ucciso Da su Data gente Io Eh ma sono mostro, sono mostro Ucciso uno Esci, esci Il tuo papio muore, no il tuo papio Ucciso Ucciso Eeeh Vi sparo Un attirato, sono a botte però No, no Dai, dai, qui Che ha messo un po' Oh davanti, davanti Sì Numero No, Serbano, me l'ho portato Minchia, qua è qui Raga eh Ma te Rimaniamo che sparo ma chi è che scuola alla nuova allo sotto che ho avuto benissimo perché c'è il tempo ma che è bianco sparate sparate che è bianco adesso ma veramente sono bui dio è un'altra ho battuto tre ワks ma porrkos di ma perchè a me watch jack **** **** wet ma basta lo stanno raga no che stanno c'ho la vita lo stanno lo stanno mi face così io in tempesto no no beh beh porca puttana beh beh aiutami beh ahahahahah ahahahahah l'ho ammazzato no 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 che vuoi? ah ahahah 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 no ma perchè siete morti ma guarda che ha fatto ha quittato si io ho quittato proprio esatto ahahah 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 ma che quittate? ma che quittate? ma che quittate? hai fatto che ho 15 kill quitta ma perchè quello ho fatto? dove sei? io dove sei portato? beh ahahah 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 dobbiamo ammazzare beh che ho 16 kill ahahah ahahah no no sei un fantasma sei un fantasma? si ma perchè non ci vedo la risa? sei tu sei tu no siete troppi io so ma guardate no 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 vai c'hai tu ti vinto vai addiole ah no 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 tappa dove sei? è la vita minchia cazzo mi sapevo aiuto c'ho 10 di vita e ho 17 kill dove sei? ehheh morto addiole no 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 avevo 17 kill cozzo no non così no però ragazzi impossibile è impossibile giocare ragazzi giocare una cosa di impossibile ormai comunque dai avevo 17 kill ma perchè questo mi doveva ammazzare sta testa di minchia cogliale di merda 17 kill avevo fa minchia minchia si no no c'ho 17 kill ormai la vinciamo questa peccato minchia da c'è un buon qua su pro eh oh perchè se potevi guardare proprio perchè si è uscita a costa e sta che tu minchia allora quello deve morire non me l'ho fatto un cazzo deve morire pure quale stava da ah ah io sto andando stando no stai dov'è dov'è è la sotto peppe vabbè che lo potete fare che l'ho acquistata voglio per favore no è un boss eh non l'ho ammazzato questo brava di niente che cazzo ha sparato che cazzo ha sparato è lo bottino oh è lo bottino mi ha ucciso è stato ucciso da un bottino minchia che cazzo ha sparato che cazzo ha sparato ma dove stavo ma mi incontro come nemici i robottini i cazzo ha sparato oh 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 ma quale robottini sono aggressivi stai là, stai là, stai là, stai là no, ma porco due dai non è possibile, non levo niente, non levo niente, oh, non levo niente, raga non levo un cazzo da mostro madonna, voglio il gioco normale, voglio, voglio il gioco normale, voglio il gioco normale, voglio il mostro no, minchia, oh, ma quello sembra che muore, ma cazzo lo fanno apposta per respawnare fantasmi a loro all'attacco, no, no, è andato all'attacco, sì, ma lo fanno apposta, cazzo ci vanno alla Stark sapendo che ci sono i... ma ma... vabbè, è perché... minchia, poi ho nel gruppo uno scrive chi cazzo gioca, minchia, oddio se ti risponde qualcuno per giocare minchia, ma appena entrano quelli nuovi, cazzo, minchia, gli rispondono subito, ma appena senta qualcuno, c'ho lì c'ho in case dava anate Alecchino a voi... si, alla Stark si, 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 si no, no, non è per prendere il... il... potere si, ti è potuto tu, 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 tu... voglio il potere per vincere tutte le partite io scendo qua un attimo cosa? C'era moriamo e... imbezion范 fantasmiche facciamo drone la parte dei fantasmi Ma ogni volta che ne passiamo dalla parte dei fantasmi Minchia, muoiono tutti i fantasmi Ma è possibile C'è solo cosa vengiamo Cazzo, ne vorrei vengere una così A meno una Ma che chiamo se la fa? E' stato di minchia Eh, i fantasmi Ah, grazie Minchia, siamo tutti qui Siamo tutti qui Non c'è l'altro Non c'è l'altro Non c'è l'altro E' lì E' lì Non si vede niente Con sta nerva, niente A te la fai Non c'è l'altro Vabbè 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 Vieni Vabbè Vabbè Pavò non lo confermare Pavò No, no Perché? Perché se lo conferma Diventa fantasma E viene da noi Lo confermiamo alla fine Cazzo mai Raga Vabbè 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 Ucciso Prendetevi un Dio Vabbè Ai papir in alto Per favore No Ne ho due Lo sto usando pure io Sì non c'era Parlo non fa niente No Vabbè Non fa niente Che fa Loro Vabbè Vabbè Aspetta Aspetta Quelli ti ho Uno scudono Qua 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 C'è gente Non so cosa ah no il mostro ero niente uno scagnozzo ma ragazzi ma che quanta cazzo impressione fa sta sedia qua sopra ma fa impressione e in aria ma che cazzo è in aria e in aria ma è bruttissimo ma distruggi qua ninja ragazze dobbiamo andare ci dobbiamo eh ci fa buono cosa ho messo sulla foretta si ragali lì cos'è fuori la carazze che sopra io ti ho morto ti ho morto ti ho ammazzato vai a cagare ammazzato di merda c'è uno si no con l'angelesi lo prendi a quei fai spesso 70 di danno eh ma c'è uno ogni tanto ok però c'è quattro modi c'è gente ho taglato poi confermiamo raga eh no vabbè perché tanto ora entro nella tempesta quindi se ne dovrebbero andare questi cioè non dovrebbero essere così stupidi da rimanere avete potuto da 50 si si ne ho un eh ne ho due tieni non cazzo stanno se ti dice ma che cazzo c'è ho spavano ho fatto data c'è la frattura c'è la frattura per poi vieni qua che usiamo la frattura c'è la frattura io vi faccio ma rega prendete la frattura prendete la frattura ma fa c'è la frattura che ci andiamo verso qua ok vieni qua una scuca è qui ahaha scuca ahahah 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 vieni la scopa a minchiare veramente me nascondere sempre cazzo eh se pepe che anche... oddio ti puoi vendere oh un cazzo lo prende c'è ah ah tu lo vuoi se lo vuoi prendetelo dai ah ok graffi graffi oh tu puoi fare ti è fino a me ma mamma mia voglio fare un cucciolare proprio che voglio voglio rimanere vivo in a sta partita siamo otto contro i due fantasmi ma dai minchiare i fantasmi non riesco ad ammazzare quelle vivi come è possibile ora si che si diventano tutti i fantasmi abbiamo vinto oh ragazzi siamo otto contro zero fantasmi ragazzi oh dai 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 Госerry cosa devo fare dai? oh co signor che uccan 2? oi nico io devo per scegliere dico oi nico non ti sei fatto sentire tutto il giorno ah ci dueomme ne ho 5 a posto ucc here guaccia mi scopo uccchie come la fune via come la fune via lì lì ma noi eravamo ma poter i wolverine vai sotto ai poteri vuol dire fa il doppio salto di vita pet in acqua 18 giallo 18 giallo ma come fa a levare il 18 giallo sto coso ammazzato forse siamo rimasti 4.3 penso ah no 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 ci sono i fantasmi ci siamo tre contro tre contro due e ci sono tre fantasmi ecco a posto porco dovemmo eliminare prima prima i fantasmi ma io spero che i fantasmi invece di picchiare a noi picchiare gli altri però certo le dobbiamo ammazzare se troviamo i fantasmi siamo cinque contro due fantasmi ma raga ma dove cazzo stanno tutti dove si ammazzano manco li vedi i fantasmi che si ammazzano e anche minchia veramente tutt'astanza non ho mai avuta nel corpo è vero ci c'era una partita è possibile giocare così ragazzi 5 contro un fantasma siamo ma manco le persone si trovano comunque ragazzi mica sono la sopra infatti sono la sopra è un'altra partita che ti pre ma poi ho sentito a moto ma io per chi ti lanciarsi e l'ho buttata oh ragazzo un fantasma c'è c'è un cazzo è il fantasma lanciarazzi avete buttato pure no no io ce l'ho aiutato alzi tu ce l'hai lanciato alzi pavo e qua ne caspare dà ah niente niente pavo li stanno distruggendo tutte cose li stanno distruggendo vai vai non si vede niente non si vede niente lo so lo so hanno preso la frattura in aria in aria ah MELLA MADONNA NON, CI VID finalmente 警, pracy web breaking web 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 bird guard urgg uccisa TOK THIS QUI LA SCOOPA La sco, la sco位 da la sco, la sco, la sco.. la scope la scuola capito che alla scopa l'ho preso niente niente lascia stare il ragazzino mi scrive siamo 3 contro 1 contro un fantasma dai che lo voglio vincere questo lo abbiamo fatto un cazzo ma perdiamo ma perdiamo si dove sta quello da solo ma dove sta pure il fantasma cazzo quasi un po' di animale il fantasma no, 2, ah ne ne anche con 2 3 noi siamo 3 contro 1 contro un fantasma no è bianchissimo lo ha ammazzato il tuo figlio del bottone è fantasma fantasma di merda lo sento lo sento ragazzi lo sento chi che tira le granate no raga raga se le sta andando se sta andando è là là io lo vedo io ho detto che si può andare a ferire in merda cazzo se ne sta andando dov'è ma manco capisco quando sparo se sparo al fantasma perchè fa bordello la tolsa guarda dove cazzo stanno tutti uno umano è un fantasma non si vede niente non si vede un cazzo oh ma la nebbia la nebbia porco oh lo vedo oh lo vedo l'ho ucciso me ne manca uno mi manca un cazzo di umano di merda dove sei? no si 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 umano di merda si che poi si trasforma è un fantasma la stessa dai raga dove cazzo sta questo tutta la mappa ci sono girati a me è camperato si ma mica è camperato in aria si è fatto qualche skybase ho pensato un pochino c'è da qualche parte no no qualche skybase avrà fatto raga sicuro ma come cazzo si fa a vedere se hanno fatto qualche skybase è impossibile riesca a guardare cazzo dove lo metto? c'è niente c'è niente raga cercatelo raga 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 il pulpo oh che cazzo? l'hai trovato? qui raga qui la merda dov'è? ma che cazzo? no raga ah ma che cazzo è questo? eccolo ah ma la minchia ma questo scassa i coglioni ma va bianchissimo vai papa vai 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 è bianco è bianco ma va ma va 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 è morto va 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 è morto cura a peppe cura a peppe cura a peppe che la diventa fantasma cura a peppe ma quello che era bello lo è su ca ma vai cura lo cura lo va diventa fantasma sto bastardo santa misera santa misera chi la venga santa 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 bollo lo sento lo sento lo sento e si che si vince finalmente cazzo finalmente si vince la pezzuza di partita normale finalmente non ci speravo più non ci speravo no